Interventi immediati alla rete fognaria, un cronoprogramma per gli interventi al depuratore del casolino in zona Salleo ed il resoconto degli interventi del 2021 e l'annuncio per quelli futuri. Così l'amministrazione comunale di Arezzo annuncia le azioni per mitigare il rischio idraulico nella zona di Via Romana e in altre zone sensibili della città che finiscono puntualmente sott'acqua anche con fenomeni atmosferici di media entità. L'annuncio da parte dell'amministrazione comunale è anche di nuove acque, quest'ultima ha fatto il punto sulle opere realizzate tra le più importanti il collegamento delle frazioni Chiasse e Tregozzano con l'acquedotto urbano di Arezzo approvvigionato con l'acqua di Montedoglio il collegamento con la rete idica e fognaria di Arezzo delle località di San Firenze e Stoppe d'Arca e il consolidamento e alleggerimento del solaio e del serbatoio all'interno della fortezza Medicea. Per quanto riguarda i lavori iniziati o in fase di avvio nel 2022, a maggio partiranno i primi interventi di adeguamento del sistema fognario del comparto urbano compreso tra Via Romana, Fosso, Sellina, linea ferroviaria Firenze-Roma e Viale Fratelli-Rosselli per un importo pari a circa 2 milioni e 300 mila euro. L'obiettivo è quello di fronteggiare le problematiche di allagamento originate da possibili e consistenti bombe d'acqua.